Molti di voi ragazzi sicuramente usano un Garmin e molti di voi sicuramente alla fine dell'uscita andranno sul proprio smartphone a vedere dall'applicazione Garmin Connect quali sono appunto i dati dell'uscita appena fatta. Oggi cercherò di vedere insieme a voi quali dati hanno maggiore importanza e anche dare un'interpretazione a tutte le sigle che troviamo sull'applicazione. Quindi cominciamo subito! Allora prendiamo un'uscita a caso, questa è quella di ieri, io giovedì ho la fortuna di riuscire a fare qualche chilometro in più e questo è il riassunto appunto dell'uscita dove c'è la durata, la distanza, calorie bruciate, il guadagno altimetrico e la velocità media. Cliccando qui sul simbolo della pagina possiamo accedere a tutti i dati contenuti nell'uscita quindi dati riguardanti la velocità, media e massima, tempo, frequenza cardiaca cliccando qui possiamo anche vedere il grafico della frequenza nello specifico possiamo anche ingrandirlo, rimpicciolirlo poi già fino a qua diciamoci siamo, velocità, tempo e frequenza cardiaca ok, la media, la massima, scendendo andiamo sul training effect già qui diciamo è una parola che potrebbe essere un attimo interpretata infatti clicchiamo poi sul simbolino arancione ci dice qual è stato il beneficio principale di questa uscita qui devo fare una piccola premessa infatti Garmin ci dà questi dati in base alla nostra frequenza cardiaca in base alla nostra potenza misurata durante l'uscita ma anche in base ai dati che inseriamo nel Garmin quindi il nostro peso, le nostre zone di frequenza e di potenza se questi dati sono sballati anche le istruzioni che ci dirà il Garmin riguardo all'uscita che abbiamo fatto saranno per forza di cose un pochino forvianti ad esempio a me mi dice che in questa uscita ho migliorato il tempo quindi la capacità di mantenere un'andatura moderata per un tempo più o meno lungo ok, mi dice c'è stato un atto impatto aerobio un impatto un pochino minore sulla capacità aerobio ok, io queste cose le prenderei però sempre con le pinze infatti per mia esperienza ho constatato che non sempre quello che mi dice il Garmin in realtà quello che poi provo personalmente è quello che invece secondo me sono andato ad allenare però comunque sapete adesso di cosa si tratta più o meno dopo ci sono tutti i valori riguardanti la potenza qui troviamo la potenza media che appunto è la potenza media portata durante tutta l'uscita tiene anche conto di quando non pedaliamo quindi del valore zero fate bella attenzione potenza massima raggiunta potenza media massima su 20 minuti lui prende i 20 minuti dell'uscita in cui abbiamo espresso la maggior potenza ad esempio se abbiamo fatto una salita di 20 minuti probabilmente saranno quelli i 20 minuti più buoni dell'uscita lui prende 20 minuti a prescindere da dove essi siano a prescindere dall'app che diamo dalle indicazioni che gli diamo noi prende quei 20 minuti e ci dice qual è stata la potenza media tenuta poi ci dà bilanciamento destra-sinistra questo ovviamente ve lo dà se avete un misuratore di potenza che misura entrambe le gambe io ho i pedali favero e quindi mi dà anche questo valore come potete vedere è 46% sinistra e 54% destra quindi sono un po' storto ma fisiologicamente penso che è difficile trovare persone che stanno a 50 e 50 comunque dato che ci siamo fatemi sapere qua sotto nei commenti se usate un misuratore di potenza che vi dà anche questo valore qual è la vostra percentuale tra gamba destra e gamba sinistra e che ne sono molto curioso potenza normalizzata già questo è un valore diciamo un pochino meno chiaro all'apparenza infatti la potenza normalizzata media potenza normalizzata è una potenza media ponderata ovvero lui non tiene conto soltanto della potenza media che infatti come potete vedere è minore ma tiene conto appunto dello sforzo fisico che abbiamo fatto per portare quella potenza quindi secondo lui in questa uscita io ho diciamo espresso uno sforzo che mi avrebbe permesso se fossi andato regolare per tutta l'uscita di portare 209 watt quindi è una potenza media appunto ponderata calcola diciamo da meno importanza ai momenti in cui abbiamo espresso zero potenza e da più importanza invece nei momenti in cui abbiamo espresso molta potenza vi dico anche che su un'uscita appunto molto costante e regolare la potenza media e la potenza normalizzata sono molto simili perché appunto l'uscita è regolare e ci sono meno picchi di potenza sia verso l'alto che verso il basso mentre in gara o comunque su uscite in cui siamo in gruppo su uscite in cui il percorso è molto vallonato che ci sono momenti di recupero momenti molto intensi quindi la media si discosta molto di più dalla normalizzata poi c'è il fattore di intensità che praticamente è il rapporto tra la potenza normalizzata dell'uscita e la nostra potenza di FTP è praticamente il rapporto matematico più il valore si avvicina a uno e più vuol dire che l'uscita è stata intensa in teoria un'uscita di un'ora fatta alla nostra massima potenza esprimibile dovrebbe essere uno che sarebbe in realtà la definizione di FTP che è la potenza che riusciamo a esprimere massima per un'ora quindi credo sia chiaro poi scrivermi nei commenti se mi sono spiegato male il TSS è praticamente la moltiplicazione tra fattori di intensità e durata dell'uscita quindi un'uscita più è intensa o più è lunga o tutte e due le cose il TSS, il training, stress, score è più alto quindi questo valore appunto ci indica in maniera oggettiva se l'uscita è stata più o meno impegnativa magari di un'altra uscita detto questo c'è il lavoro vabbè ci interessa decisamente poco cadenza, cadenza media e massima anche questo è facile da capire quota quindi dislivello positivo, dislivello negativo altitudine minima, altitudine massima e poi ci sono le dinamiche di ciclismo qui ci dice addirittura quanto tempo abbiamo passato in piedi quanto tempo abbiamo passato seduti la potenza media in piedi, massima in piedi, media seduti, massima seduti per niente ci dice tutto cioè se più di così che c'è di vedi siamo stati un po' in piedi, un po' seduti la potenza che abbiamo espresso in piedi e quella seduti qua sotto dinamica di ciclismo questi ragazzi sono valori direi piuttosto importanti che io direi ho piuttosto sballati infatti come potete vedere sulla gamba sinistra la fase di pedalata inizia molto prima rispetto alla gamba destra ma finisce anche molto prima rispetto alla gamba destra infatti ha un arco di potenza di 218 gradi contro i 222 della gamba destra questo vuol dire appunto che la sinistra inizia a spingere prima ma si ferma anche molto prima rispetto alla destra che inizia a spingere più tardi ma spinge per un arco maggiore di pedalata e quindi si ferma anche più tardi rispetto alla sinistra preso questo arco di pedalata possiamo però anche vedere che c'è un arco diciamo in cui la spinta è maggiore che è di 60 gradi nella sinistra e di 62 nella testa quindi qui presso a poco sono uguali e possiamo vedere poi in realtà dove è posizionato questo intervallo appunto di coppia espresso dalle nostre gambe che generalmente è intorno ovviamente ai 90 gradi il valore dinamica di ciclismo media PCO non lo fa vedere perché sui pedali che so io non è diciamo non è misurato ma sarebbe praticamente quanto è perpendicolare la forza che esprimiamo sul pedale ad esempio i Garmin Vector che avevo prima lo misuravano però avevano un sacco di altri problemi quindi lasciamo perdere nutrizione idratazione addirittura potremmo scrivere cosa abbiamo mangiato e cosa abbiamo bevuto frequenza respiratoria io ho una fascia che misura anche questo infatti in media faccio 32 atti respiratori al minuto anche minima e massima e poi la temperatura qui con questa freccetta invece possiamo vedere i valori di ogni singolo lap che abbiamo dato noi sul contachilometri sul GPS io in genere uso molto questa funzione perché dando un lap all'inizio di un esercizio di una salita in cui voglio vedere la potenza media che esprimo poi lo lap alla fine e alla fine appunto ho tutto registrato e posso vedere lo specifico di quel tratto di strada ma posso vederlo anche poi in diretta sul Garmin avendo impostato quella pagina dato mi sembra ragazzi di avervi detto più o meno tutto quindi secondo me i valori da tenere maggiormente in considerazione sono i valori di frequenza cardiaca maggiormente la media e i valori di potenza la media e la normalizzata detto questo penso davvero di avervi detto tutto e non ci resta che chiudere questa bella applicazione ok ragazzi sono stato un po' a lungo spero di essermi spiegato bene non sono concetti facilmente spiegabili così in 4 e 4 8 però spero di avervi dato un'infarinata e spero di avervi facilitato il momento in cui appunto prendete lo smartphone e vedete come è andata la vostra uscita quindi non vi limitate a vedere il disdello che avete fatto e la velocità media che avete portato ma se avete una fascia cardio misura di rete di potenza strumenti ormai sempre più diffusi anche tra gli amatori mi raccomando date anche un'occhiata alla potenza media alla normalizzata date i lap durante l'uscita fate questi confronti anche con magari appunto tracciati fatti in altri momenti vedete se la frequenza cardiaca per portare quel determinato sforzo è minore o maggiore rispetto a qualche periodo fa vi assicuro che una volta che uno ha compreso questi valori anche il training stress core, l'IF vi assicuro che una volta preso domestichezza appunto con questi dati sarà molto più istruttivo e molto più piacevole andarsi poi a rivedere l'uscita che è stata fatta con questo è davvero tutto ragazzi io come al solito vi ringrazio per l'attenzione invito a mettere un bel like a iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ciao